Ciao Top Driver, se sei appassionato di e-sports non puoi perderti il manuale in pdf che ho preparato per te. Sono Alberto Di Teresa, il fondatore di ABT e-sports academy. Corriamo principalmente sulla serie di F1 quindi se anche tu sei appassionato di e-sports e corri su F1 scarica il nostro manuale. Sono più di 120 pagine dense di contenuto dove spieghiamo tutti i parametri del setup e ti viene fornito un metodo di costruzione dell'assetto con il quale potrai iniziare a creare i tuoi setup da zero oppure adattarli al meglio al tuo stile di guida. È totalmente gratuito, è un regalo che abbiamo voluto farti perciò clicca su link, scaricatelo, studialo e metti in pratica i concetti che troverai. Io ti saluto e in pista, nel dubbio, tieni giù. Ciao Top Driver!